28esima edizione per Winter Bikers, la manifestazione che porta ogni anno sulle colline manfrede centinaia di motociclisti da tutta Italia e Europa. Una manifestazione che come sempre dedicherà parte del ricavato in beneficenza. Da dove arrivano questi biker? Un po' da tutta l'Europa perché abbiamo dalla Spagna, dalla Slovenia, Austria, Germania, già da giovedì, due tedeschi sono arrivati con i sidecar giovedì in poveriggio, Croazia, quindi tutti i nostri amici di tutta Europa che andiamo a trovare anche noi, vengono a trovarci di conseguenza. Quest'anno siamo qualche grado sotto zero però possiamo dire che il tempo è stato veramente ottimo. La gente che viaggia d'inverno non ha paura del freddo ma piuttosto delle condizioni avverse meteo, pioggia e neve, non il freddo. Siamo da Germania. E i bikeri winter bikeri, ti piace? Sì, ci piace i bikeri winter bikeri, siamo ogni anno. Pasquale. Da dove? Da Aprilia, provincia di Latina. Faccio parte del gruppo molto patitori di Latina. Siamo in compagnia di una bella centaura, di una bella biker che arriva da dove? Treviso. Prima volta qui al winter? Sì, prima volta emozionata, bellissimo, trovo bellissima gente, tanta gente che conosco. Sono, logicamente, bikers del cuore e sono contenti di esserci venuti e ci ritornerò. Qui leggiamo grappa, c'è della grappa qua dentro? Sì, è molto buona anche. Da dove arrivate? Da Pistoia. Bello, bel posto, insomma. Però ci vorrebbe la neve, ci vorrebbe un po' di neve. Vi vedo con qualcosa in mano, cosa si sta bevendo? Bira, assolutamente. Sostra di birra per tutti. Viva!